allora buongiorno a tutti e bentornati oggi impariamo nuove parole e vediamo che nel video ho un campo da tennis davanti a me la terra è rossa e ci sono due campi da tennis con delle persone che stanno giocando a tennis quindi il campo da tennis terra rossa e poi la racchetta da tennis questo è un gioco uno sport e quindi il verbo giocare è il gioco tu giochi lui gioca noi giochiamo voi giocate loro giocano alla prossima